Aveva chiesto un sopralluogo e la messa in sicurezza della diga di Calcinelli, il sindaco di Colli al Metauro Stefano Guzzi. Dopo le segnalazioni dei cittadini preoccupati per il rischio crollo, il primo cittadino aveva allertato gli organi competenti. Tra questi, la proprietà Enel Green Power, che ha risposto al sindaco con una lettera, in cui rassicura il comune sulla stabilità dell'opera. Infatti, nonostante la traversa, si è rovinati in alcuni punti con un cedimento al centro. Secondo la proprietà, non si corrono rischi e si precisa a nero su bianco che si stanno progettando ulteriori interventi di manutenzione. Le sollecitazioni che noi abbiamo avuto da alcuni cittadini e che come amministrazione comunale ci siamo fatti carico hanno avuto un effetto che io ritengo doveroso, ma anche positivo, da parte dei responsabili che noi chiamiamo diga, loro chiamano traversa. Comunque sia, noi, come dicevamo l'altra volta, abbiamo scritto a tutti gli enti interessati, a Enel Green Power che ne ha la titolarità, ma anche la Regione Marche, il Consorzio di Bonifica, la provincia, per allarmarli su quello che potrebbe essere un pericolo non tenuta di questa diga, di questa traversa. Abbiamo già detto che la titolarità qui è di Enel Green Power, sui quali avevo già avuto scambi telefonici più volte. La Regione Marche ha preso atto di questa nostra segnalazione e anche da parte loro c'è una lettera che ci hanno fatto avere per conoscenza che hanno scritto a Enel Green Power raccomandandogli dei controlli, delle valutazioni ed eventualmente degli interventi. Ma la cosa più interessante, dopo ripeto diversi contatti telefonici, è stata proprio la lettera invece di Enel Green Power che io ho qui, che spiegano per iscritto tutta una serie di interventi che loro hanno fatto qui negli ultimi dieci anni di continue verifiche in questo luogo, rassicurandomi quindi sulla tenuta innanzitutto, ma al di là del fatto di rassicurarci e riassicurarmi sulla tenuta, mi scrivono che comunque è loro intenzione, a parte continuare a monitorare ovviamente tutta la situazione, di intervenire con un progetto e con un'opera di manutenzione nei prossimi periodi per ovviare a quello che qui alle nostre spalle lo vediamo, è comunque uno sgretolarsi in parte di questa struttura che dal loro punto di vista non comporta pericolo di crollo perché a monte hanno già fatto diversi interventi gli anni passati con delle paratie di ferro, mi spiegano dei pali eccetera, però per rassicurarci e per rendere tutto più sicuro garantiscono degli interventi futuri e comunque a me la cosa che fa ovviamente il piacere è questo loro veloce riscontro che hanno portato anche per iscritto che se mi permettete mi rassicura un attimo anche per il ruolo perché io ho fatto un'opera di denuncia verso una titolarità, una proprietà, si sono fatti carico del problema, ce lo hanno messo per iscritto, ma al di là del fatto di rassicurarmi e di rassicurarci per iscritto come responsabilità io spero che poi siano conseguenti nel portare avanti anche l'opera di manutenzione che ci rassicurerà ancora di più ovviamente nei fatti.